ciao sono paolo bacci vi presento questa caravan lord musterland lmc una una bella caravan ben fatta e ben rifinita se volete vedere la scheda cliccate nella vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito con le caratteristiche gli accessori di questa caravan e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale cliccate sulla campanellina e se vi è piaciuto cliccate sul mi piace di questo video andiamo al suo interno questa roulotte è una comodissima 2 e però a questa zona giorno vedete come bella finestrata molto molto luminosa e ampia che può diventare un letto matrimoniale poi un bel blocco cucina bella bello con i tre fuochi il contenitore sotto e il frigorifero sulla sua destra fate come ben tenuta quindi è proprio una bella roulotte vari contenitori ne sopra poi un letto alla francese e quindi eccomi qua ora sto attento io sono un metro e ottanta guardate eccomi qua ci si sta bene poi anche chi colui che coloro che sono che stanno a questa parte basta che uno si sposti e scendano facilmente il lavello eccolo qua con suo contenitore e poi il bagno finestra e oblò quindi un bello spazio doccia guardate come ci si gira bene e anche il water è veramente comodo quindi una roulotte comodissima per due ma all'occorrenza anche quattro quindi un invito a venirla a vedere così vi rendete conto se il filmato vi ha emozionato quindi vi ha portato all'interesse di questa roulotte venite a vederla che ve la spieghiamo capite le caratteri capite meglio le emozioni che può dare e sicuramente a un ottimo prezzo e ottimi servizi caravambacci ciao